...balducente, che avendo in mano le tecniche scritte su un foglio di carta ha voluto provare a casa prima della fine del corso su una persona di famiglia, torno a dire che aveva un difetto di pronuncia che ostacolava il proferimento delle parole e quindi attraverso il proferimento delle parole l'immissione dei concetti che le parole intendevano portare con sé. E lì pose la persona su cui voleva esercitare, prima ancora dell'inizio dell'esercitazione, la sua facoltà, seduta su una sdraia, si mise dietro di lei e cominciò a proferire le parole leggendo le formule dello scritto che aveva in mano e ogni tanto andava a vedere di sopra se gli occhi si erano chiusi. È una situazione che, diciamo così dal punto di vista delle tecniche induttive è la negazione dell'effettività delle induzioni. Impossibile sembra indurre indurre in sonno ipnotico una persona trattata in questo modo. Poi abbiamo avuto un altro il quale aveva un modo di parlare. Ora io ti metto in sonno, ora tu ti senti chiudere gli occhi e gli avevo detto quando ti ho visto il modo di parlare. Sveglia ogni tanto perché l'attivizzazione del tono delle finali di una parola ovviamente fa un risulto e non fa un risulto. Tuttavia ha voluto esercitare e ha ottenuto, anche il primo ha ottenuto, un e due hanno ottenuto l'ipnosi. Un altro paradigma, come si dice, paradigma, va bene quello che si, quello che è. Qui alcuni anni fa abbiamo avuto, come di consueto, un corso, però questo corso ha avuto qualche anno fa, alcuni anni fa di cui voglio parlare, c'erano due medici venuti da un'altra scuola. Questi durante il periodo delle esercitazioni vogliono, uno di loro, vuole mostrare di saperne più di me. E cosa fece? Siccome aveva una dimestichetta con l'altro erano, diciamo così, in coppia in certo senso, gli prese un braccio, prima lo ipnotizzò con gli occhi e con le parole, poi le prese una mano, gliela tese così e gli disse il tuo braccio è una sbarra di ferro, tu non puoi più pegarlo. Cioè produsse la catalisi non con movimenti della mano, ma semplicemente con l'ordine ipnotico, con una suggestione la cui potenza produttiva era dovuta all'autorevolezza della sua personalità. Il braccio rimase rigido, lungo, ma è dovuta anche l'effettività della catalisi, è stata dovuta anche a una eccezionale ipnorecettività del soggetto, troppo recettivo e quindi esageratamente inducibile. Il braccio rimase teso, fatto constatare a tutti i colleghi, perché le esercitazioni avvengono corum omnibus, che il braccio non aveva rigido e che anche piegava il corpo ma non si piegava il braccio, e il braccio cominciò a dire ora ti libero il tuo braccio dalla rigidità e fece questo movimento della mano. Il movimento dal centro, anche se è soltanto una parte, alla periferia, in tutti i testi di ipnosi e simili, è insegnato come strumento per produrre la contrazione di tutti i muscoli dell'alto preso in considerazione, quindi l'inguainamento del sistema osseo in una rigidità muscolare, contratti muscoli. Lui diceva, ti libero il tuo braccio diventa elastico e faceva il gesto che nei testi è insegnato a produrre catalessi. Il braccio, invece di elasticizzarsi, si induriva sempre più, ma non solo. Il povero disgraziato che era sotto l'azione del collega cominciò a strillare dal dolore e più ripeteva il tuo braccio diventa libero, sciolto elastico e più l'altro gridava dall'alto preso. Allora io gli dici all'operatore, partecipo ai miei poteri al professor Marchesano, dica queste parole. Ha detto queste parole, allora sono intervenuto io. E ho detto, ho fatto il gesto, dalla periferia al centro. Il tuo braccio diventa elastico come se non ci fosse stato, non fosse mai stato nido. E immediatamente il braccio divenne elastico, sciolto e cessarono i lamenti. Cosa ci insegna l'episodio? Ci insegna che la questione dell'andamento della mano parallelo all'alto non è una convenzione umana, ma una natura di qualche cosa che procede dalla mano sul braccio. Che cosa può procedere dalla mano sul braccio? Niente, no? Non si vede niente. La mano è distante dal braccio. Eppure nel braccio i muscoli hanno dei mutamenti strettamente commessi con la presenza e il passaggio della mano lungo l'alto a distanza dal arto. Ciò vuol dire che c'è una energia indipendente dalla volontà dell'operatore che punisce l'operatore che le disobbedisce affliggendo il soggetto che ha nelle mani portando quindi una situazione di allarme e di richiesta perché il grido dell'orolo è un allarme e richiesta di un intervento di chi è più accorrente della realtà della energia amministrata dalla mano. Quindi c'è una energia che ovviamente non è chemiofisica non è chemiofisica tra la mano e il braccio non c'è contatto non è elettrica è energia vita sappiamo che è energia vita che è un'energia totalmente diversa dalla chemiofisica indipendente dalla stessa subordinante a se medesima la chemiofisica quindi queste proprietà e questi fenomeni esistono per se stessi e sono inerenti a quella energia diversa dalla chemiofisica che è l'energia vita nessuna enciclopedia e nessun filosofo del corso dei secoli ha portato la definizione della vita è una realtà qui siamo vivi cioè abbiamo la vita tutto indosso è una realtà innegabile che si sottrae alla definibilità guardate tutte le enciclopedie tutti i testi di filosofia vi tirano la vita la vita è quella cosa per cui uno è vivo, sano, eccetera questo non è una definizione è un'enunciazione di effetti della vita non della entità, della consistenza della vita non si può dire altro che questo la vita è una energia diversa dalla chemiofisica dominante della chemiofisica conferente biologia alle sostanze della chemiofisica rendendole vitali e amministrabili da essa medesima è un'energia che sembra avere una sua personalità e purtuttavia non ingombrare quella che essa rende consistente in se stessa che è il Dio umano l'Io umano è un'energia una carica di energia vita riprendiamo dopo guarda che tardi ah per fatto è vero io credo che fosse già pomeriggio sentito un po' sì, perché abbiamo preso per pranzo l'ottimo, diciamo così che abbiamo fatto prima allora, io farò delle precisazioni a proposito di quello che ha riferito il professor dopo, naturalmente per quanto riguarda l'iproposalizzazione in cieco-tovacchia in rapporto a quella nei paesi latini fra l'altro il primo intervento a proposito delle parole del professor Marco Marchesano in appoggio dei concetti di Marco Marchesano siccome il professor Marchesano ha detto che non esistono che le quei concetti dell'energia vitale e dell'energia non si dirige secondo certe leggi fisiche della fisica chimica sono le cose che sono le cose che sono molto importanti e si può dire che addirittura oggi nella scienza odierna si può trovare quelle confermazioni per esempio c'erano dei grandi scienziati il filosofo francese Henri Bergson che parlava del concetto energia vitale energia vitale poi ci sono per esempio il grande fisico Nils Bohr danese di Kopenhagen è il fisico più grande si può dire quasi come Alberto Einstein che aveva anche espresso il fisico nucleare che è uno dei più grandi fisici della fisica nucleare diciamo così come Enrico Fermi Einstein e così via che aveva detto anche lo stesso e anche il biologo bioneurologo Roger Sperry premiato di nuovo l'81 di Passatena americano che aveva espresso lo stesso concetto che l'energia vitale bioenergia non si può dirigere soltanto secondo le leggi fisiche e chimiche e questo sarebbe una piccola modificazione dei principi dei grandi scienziati del greco Pitagoras e uno dei più grandi scienziati del mondo il grande Galileo Galilei io sono molto fiero di aver frequentato la stessa università di Padova come tre secoli fa Galileo Galilei ma i principi di Pitagoras e Galilei che avevano detto che nella scienza e la matematica e la statistica vale per tutto questi concetti si sono un pochettino modificati certamente che noi nel sistema nervoso centrale i studi del nervoso centrale il sistema nervoso centrale sono pressa poco un milione dei libri e dei articoli per anno in tutto il mondo allora si fanno grandissimi studi ma con tutti quegli studi del nostro cervello del sistema nervoso centrale si può dire che se in un certo punto noi possiamo misurare anche matematicamente e con le leggi da fisica e chimica il risvolgimento del cervello ma non del tutto se in un certo grado e dopo un certo grado non si sa cosa che sia quella propriamente energia vitale oppure quella cosiddetta bio energia ha proposto vorrei dire che oggi nella scienza e in certe università per esempio da noi a Lugiana tre settimane fa era una radunata dei professori di università alla facoltà di medicina che dicevano che bioterapia non esiste io direi così uno può essere scettico per quanto riguarda questi concetti e dire io non so se esiste o non esiste ma categoricamente questo negare io non farei io avevo citato adesso dei grandissimi scienziati Henry Bergson Roger Sperry era il primo che divideva il cervello da parte i studi come funziona il cervello destro e sinistra Passadena Nils e così via tanti scienziati hanno dichiarato lo stesso che se in un certo punto va la matematica fisica siccome noi oggi sappiamo che anche la fisica è un po' modificata di quello che diceva Einstein e Newton che non è la scienza esattissima la fisica io non vorrei fare argomenti su quelle microcosme e così via sul mondo nucleare e addirittura si può dire oggi che anche la matematica non nella scienza 100% assolutamente esattissima e per quello nei svolgimenti della biologia del cervello noi andiamo su un certo punto con le leggi della fisica chimica ma dopo un certo punto ci siamo là noi allora dobbiamo accettare quei concetti di bioenergia energia vitale che sono sinora sconosciuti e per questo dico ancora volta in appoggio di quelle dichiarazioni del professor Marco Marchesano e un'altra domanda un question con il professor Freiberg concerning age regression phenomena life intrauterine sembra to be to be ok but the previous life it is opinion different it era opinion difference on scientists the scientists say on people say yes it exists age regression in the life previous life and author says it is not true not exist and could be very interesting what do you mean mister professor about this phenomena age regression it was very extremely interesting your talk I think one should discuss much more this topic on energy bioenergy one very important thing you also said was that there really are not any sharp borders today between so called exact and non-exact sciences and we know it from the new physics also this is much more philosophy than physics today and so what is exact science what is truth what is fiction what is fantasy well and so we come to the question about the past lives or reincarnation or whatever you mentioned the bioenergy and if we would like to we could have two to begin with two common determinators one would be the continuity the concept of continuity and one would be the concept of the bioenergy now for a few years ago and I would say today also many people today would absolutely deny any sort of pre-net life still and so but more and more people would accept and would consider it as a very logical thought very few people would accept today an existence of their pre-life sort of reincarnation or whatsoever however you would call it because like the pre-net life it is not in agreement with common sense and and I could imagine I wouldn't really I don't know if somebody could give evidence I wouldn't have any evidence but I wouldn't I wouldn't by no means deny the possibility of existence of different kind of lives and in that case I would in my understanding I would I could put it in agreement with the bioenergy and see it as a sort of energy coming from the parents grandparents etc and generations and you can call it energy I don't know we have to find a suitable term it is for instance C.G. Jung had ideas about archetypes which in certain sense archetypes would also be a sort of repetition of life of life in generations what I did practically and it would be very interesting to hear from you who have more experience if somebody is here I tried to do regression in hypnosis back before contrast and there are many people who did it I can talk about all about my own experiences and I have probably not enough skills in that to be able to make a real interpretation but I had a very clean feeling with a couple of people patients or people who were who I do it with that there was some kind of remembering some kind of deja vu deja vu phenomenon and it couldn't be only fantasy or it wasn't definitely suggestive it was something those people could remember which wasn't in connection with the present life and which probably wasn't even talked to them so I very hope personally I very hope for the possibility that we should in any case I would encourage I research in this field Io vorrei ringraziare e ringraziare le persone per farlo. Ho conosciuto alcune persone che vogliono collaborare con me dal campo di reversa. E loro fanno molto bene, perché è in accordo con la filosofia. Questo è molto come da l'eastern Zen e altre filosofie. L'eastern Zen. E le report che mi sono molto interessante e alcuni di loro sono molto convincente. Quindi per la mia parte, sono completamente open. E io non mi sono sorprendente se potessi provare un giorno che c'è una continuità. Per me, questo sarebbe quasi metafisico non considerare la possibilità di una continuità. E noi diciamo che i generazioni precedenti, avevano la continuità del delivio. Ora noi diciamo che c'è una continuità per la conception. E noi stiamo studiando oggi, che parlano di conoscenza in sperm e conoscenza in ovul. Ancora, perché non si vengono a tornare e dire che questa è una continuità e l'immortità dell'energia. Quindi lasciate abitare e vedete. Grazie.